Ed è responsabile di rinunciare ai soldi del CIO, 1 miliardo e 700 milioni, e del Governo circa 4 miliardi, con cui si sarebbero realizzate le opere in cui la città ha bisogno, metropolitana, anello ferroviario, collegamento termini fiumicino, recupero stadio Flaminio, rigenerazione palestra e impianti sportivi comunali. Ed è responsabile rinunciare a 177 mila posti di lavoro e all'aumento della ricchezza del 2,4%.